Prego Ciao, buonasera Condizioni non semplicissime Perché sei giocato con temperature altissime Però i ritmi in molte fasi della partita Sono sembrati comunque soddisfacenti Ti chiedo un bilancio della serata E a che punto Anche al netto o alla luce Di quello che è successo stasera Siete rispetto a quello che vi sta chiedendo Clotet Beh, sicuramente È stata una bella partita Però c'era Marco per non aver vinto Perché volevano vincere sicuramente E loro, come si sa, hanno una squadra di Serie A Però dovevano sfruttare meglio in certe occasioni E loro si è vista la loro qualità davanti E quando abbiamo sbagliato hanno fatto gol Però abbiamo cercato di mettere in pratica Tutto quello che ci ha chiesto Clotet Abbiamo lavorato tantissimo sull'intensità Cioè andare a prenderli uomo con uomo In avanti Anche se era Sampdoria Una squadra di Serie A senza paura E sicuramente dobbiamo migliorare E abbiamo tempo Oggi hai giocato sulla fascia E volevo chiederti se il mister Te l'ha proposta anche come opzione Durante la stagione Oppure era solo in caso di emergenza No, penso sia una cosa di emergenza Perché Ward è infortunato E mi ha messo lì perché avevo bisogno di farmi inutaggio Però non c'è problema Io mi trovo meglio in centrale sicuramente Però se mi chiede di giocare lì il mister Non c'è problema Quindi ti è piaciuto giocare al terzino sinistro? Sì, sì Pensi che possa essere un ruolo? Io preferisco il centrale Però se la squadra del mister ha bisogno lì Non c'è problema Anche la passata stagione Ho fatto tante volte il terzino Soprattutto nei minuti finali Quando mi ricordo con Inzaghi C'era bisogno di difendere Non c'è problema Quando c'è da dare una mano Sicuramente sono il primo Come vi siete trovati in difesa? Comunque mi pare Abbiate retto bene Contro una squadra di categoria superiore Insomma i meccanismi sono liati Insomma Risposte importanti Poi ne approfitto per chiederti Insomma i due titolari sono Al momento almeno Cistana e Adorni Però ci sono margini per imporsi Anche perché c'è il mercato Può succedere un po' di tutto Sì In difesa Penso l'abbiamo fatto bene Anche perché ci conoscevamo Già da tempo tutti e quattro Sicuramente dobbiamo migliorarci Certe cose Perché i concetti di Crudet Sono Su alcune cose sono diversi Rispetto agli allenatori passati Riguardo alle gerarchie Vediamo cosa sta facendo Ovviamente vorrei giocare Sempre tutto il titolare Però vediamo Cerco di dare il massimo E di mettere in difficoltà All'allenatore Un altro protagonista È stato sicuramente il caldo Però in altronde Quest'anno si inizia ad agosto Volevo chiederti Se state facendo anche Degli allenamenti Particolari In morali particolari Per prepararvi a A questa calura Che troverete nelle prime partite Sì Sicuramente Il caldo oggi Tutti i giorni Praticamente Anche a Torbole È una cosa impressionante Però Non è un alibi Perché c'era per noi C'era anche per la Sampdoria Allenamenti Allenamenti Sinceramente non vedo la differenza Anzi Clotet Massima intensità Durano tantissimo Non si risparmia niente Quindi Meglio così C'è qualcuno dei nuovi Che ti ha colpito In maniera particolare Stanland Tutte le risposte Abbastanza soddisfacenti Però c'è un profilo In particolare Che ti ha soppreso In queste semplici Uno in particolare Non c'è Però Sono tutti Bravissimi ragazzi Che corrono tantissimo Hanno voglia di imparare Di mettersi in gioco Questa è la cosa più importante E Patrick invece? Patrick è un ottimo giovane Si deve allenare con noi Deve imparare tante cose Però Ottimi numeri E sicuramente Con noi migliorerà ancora di più Grazie